la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati con la nostra rassegna stampa oggi venerdì 10 luglio partiamo subito con i titoli del mattino nazionale andiamo a vedere il titolo di apertura covid, lo stato d'emergenza va prolungato di altri 6 mesi il governo teme la seconda ondata il pressing di speranza il premier d'accordo vietato venire in Italia da 13 paesi la morgese a settembre rischio tensioni sociali ora l'idea del governo è quella di prorogare lo stato d'emergenza covid fino al 31 dicembre così il premier Conte potrà emettere nuovi dpcm il timore del governo infatti è quello di una seconda ondata PD e Movimento 5 Stelle favorevoli alla proroga frene Italia Viva opposizioni contrarie e poi c'è il flop dei decreti attuativi norme lumaca sistema legislativo da anni 40 sempre di taglio alto l'ultimatum del governo ad autostrade pedaggi giù aspi entro domani deve accettare nuove condizioni o arriva la revoca Conte accelera PD e 5 Stelle divisi e poi economia e giustizia il morandi e paradossi che frenano gli stranieri il dibattito quello stato imprenditore che ha fatto bene al sud sul centro pagina la deputazione il comune non versa nulla da 7 anni De Magistris non paga neanche San Gennaro di taglio basso invece cambiano le regole in caso di annullamento con certi vince McCartney no ai voucher sì ai rimborsi nei palazzi della politica lo chiamano già emendamento McCartney e non potrebbe essere altrimenti la sensazione infatti è che se Sir Paul non avesse sguainato la spada a tutela dei fans italiani rimasti senza rimborso dopo l'annullamento dei suoi concerti di Napoli e Lucca ben difficilmente il governo sarebbe tornato sui suoi passi in merito al meccanismo dei voucher previsto dal decreto rilancio per i live saltati lasciamo la prima pagina ma proseguiamo sempre sul mattino andiamo a vedere le pagine in primo piano e si parla in questo caso della vicenda autostrade apre al governo che apre al governo il premier Conte Stufo CDM lunedì la società pronta a venire incontro alle richieste dell'esecutivo il nodo societario tensione tra il premier De Micheli Gualtieri che non vogliono Anas gestori e l'azienda del gruppo Benetton è pronta ad aumentare come richiesto di 500 milioni gli investimenti i nodi da sciogliere principalmente sono tre tariffe più basse maggiori investimenti l'ingresso di CDP e FID2EI e poi il passo successivo se finirà davvero così se Aspi dovesse presentare una controfferta soddisfacente si aprirebbe subito dopo l'altra partita forse quella più delicata e strettamente legata un'eventuale finale positivo il passaggio dei Benetton in minoranze in Aspi argomento di cui non si sarebbe parlato ieri pomeriggio ma che è assolutamente dirimente se infatti la famiglia di Treviso considerata colpevole dei 5 Stelle del crollo del Ponte Morandi dovesse continuare a rifiutare di fare un passo indietro cedendo il controllo di autostrade a cassa depositi e prestiti attraverso il fondo FID2EI i grillini ribadirebbero il loro no al rinnovo della concessione revisionata e lo stesso farebbe Leo che da tempo al pari dei 5 Stelle invocano la nazionalizzazione dell'intera rete autostradale e intanto Andrea Marcucci presidente dei senatori del PD dice Palazzo Chigi non perda altro tempo trattativa dura ma si deve decidere una disponibilità dell'azienda anche sugli assetti azionari sarebbe risolutiva un dramma che non può restare senza colpevoli giusto aver convocato il tavolo al ministero lasciamo anche questa pagina ma proseguiamo e proseguiamo con l'attualità e le problematiche legate alla pandemia da Covid-19 vediamo i dettagli stato di emergenza al 31 dicembre il governo si prepara alla proroga il 31 luglio prossimo scade il decreto pressing del ministro Speranza PD e Movimento 5 Stelle per un rinvio Caidi Conte per il premier la possibilità di nuovi di PCM e timori per il ritorno del virus ma gelo di Italia Viva vediamo prorogare lo stato di emergenza in Italia fino al 31 dicembre per fare in modo che il premier possa ancora emanare se ce ne fosse bisogno nuovi di PCM gli ormai mitologici decreti del presidente del consiglio che hanno accompagnato gli italiani durante la fase 1 e 2 del coronavirus la spinta arriva dal comitato scientifico dal comitato tecnico scientifico e anche al ministero della salute sono consapevoli che sarà un passaggio necessario e la notizia potrebbe essere annunciata ai leader della destra convocati a Palazzo Chigi Salvini dice non ce n'è bisogno mentre il consiglio superiore della sanità è a favore della misura attesa a fine mese intanto sono stati pubblicati alcuni numeri della crisi il 40% ad esempio dei pubblici esercizi che ad agosto resteranno aperti 3% i negozi che in Italia non hanno riaperto dopo il lockdown 53% il calo medio del fatturato e intanto un'altra notizia di attualità in treno positivo e con la tosse denunciato dopo il viaggio dalla provincia di Ravenna era scattato l'allarme sanitario ed erano state avvertite le forze dell'ordine un uomo risultato positivo al tampone scomparso e non sappiamo dove sia potrebbe contagiare altre persone martedì è stato bloccato dalla Polfer alla stazione Termini a Roma con tosse e febbre come raccontato già ieri dal messaggero il 53enne originario del Bangladesh ha viaggiato tra Romagna Marche e Lazio prendendo due treni regionali oggi è stato denunciato ora è stato denunciato per la violazione della quarantena ed è ricoverato in isolamento al policlinico Umperto I ma le sue condizioni sono stazionarie ora invece rimaniamo sul mattino ma andiamo a dare lettura della pagina dedicata a Salerno e provincia il titolo di apertura è dedicato alla scuola e alla polemica guerra delle mascherine obbligatorio indossarle soltanto quando ci si alza dai banchi la regola non piace ai presidi ok dalla provincia così si recuperano spazi ma i dirigenti protestano solo un escamotace a scuola con la mascherina e quando ci si alza dal banco da seduti invece bocca e naso liberi il compromesso non convince i presidi mentre la provincia parla di soluzione per recuperare più ambienti didattici nei giorni scorsi la provincia aveva partecipato alla videoconferenza con il sottosegretario del ministero dell'istruzione Giuseppe De Cristofaro sulla definizione delle misure anti-covid da adottare nelle scuole a settembre è stata approvata la proposta avanzata dei nostri tecnici afferma il presidente della provincia Michele Strani Tristrianese e poi la sicurezza spiagge libere arrivano i vigilanti contro il caos pronta alla gara e di lato la sanità agropoli ecco l'ospedale qui c'erano solo catene e poi l'epidemia pasticcere infetto a Battipaglia tornato dal nord lavora a Salerno sul centro pagina serie B Salernitana avventura cerca conferme e il tempo delle verifiche trasferta ad Ascoli tentazione e capezzi poi una notizia di cronaca l'incidente si schianta in moto contro il muretto muore farmacista tragedie sciocca Marina di Camerota il 31enne era molto noto nel centro turistico di taglio basso l'iniziativa Portale Cultura Salerno è distante un click storia personaggi eventi nel catalogo online della città ora invece andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano la città vediamo il titolo di apertura spiagge libere arrivano i vigilantes Salerno il sindaco annuncia faremo rispettare le regole anti-covid poi addio al palazzo di giustizia oggi si chiude il commento quel triste simbolismo nel silenzio dei giudici e poi di lato Camerota schianto in moto muore farmacista cavale tirreni abusa dell'allieva condannato il prof a battipaglia ronde a belvedere caccia aperta ai ladri e sempre di lato riapre l'ospedale di Agropoli De Luca dice mantenuta la parola data a battipaglia pasticcere positivo torna l'incubo nella piana del sele mentre a Sanza festa a tutti i costi il primo cittadino dice test ai marunnari sanità afferre del 118 rimborsi pagati senza rendiconti e poi di taglio basso la salernitana caccia del colpaccio perduto Ventura crede nel blitz è un finale eccitante tuffiamoci ora invece passiamo al quotidiano le cronache vediamo il titolo di apertura anche in questo caso Cofaser le chiude fornitori non pagati farmacie comunali senza medicinali e poi a Buccino sarà presentato ricorso al Consiglio di Stato Buccino in piazza contro le fonderie Parisi la popolazione pronta alla protesta e per quanto riguarda il calcio i tifosi attendono un segnale in riferimento alla salernitana in serie B tabù trasferta per i Granata ad Ascoli vietato sbagliare ed ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità torniamo tra poco con la seconda parte della nostra rassegna stampa ben trovati con la seconda parte della nostra rassegna stampa ritorniamo sul mattino e andiamo a vedere le pagine dedicate al salernitano si parla in questo caso di sanità strutture nuovi reparti dove c'erano le catene riapre l'ospedale di Agropoli ma è già polemica il presidio resta fuori dalla rete dell'emergenza il governatore dice 9 accessi su 10 non sono codici russi i sindacati nosocomio a tempo determinato sarà ridimensionato le polemiche il nosocomio occidentano non rientrerà pieno nella rete dell'emergenza accederanno al pronto soccorso soltanto i codici compatibili con i servizi offerti sicuramente non ci saranno quelli rossi perché significherebbe farli morire ma come voi sapete il 90% degli accessi al pronto soccorso non sono codici rossi osservato De Luca il governatore della campagna per i codici gialli invece il 118 è in attesa di disposizioni poi c'è l'attualità con il covid-19 con i contagi da covid-19 a Battipaglia pasticcere infetto è tornato da un viaggio al nord caso di covid a Battipaglia per l'appunto l'infetto è un pasticcere 48enne l'uomo che lavora in una pasticceria di Salerno è stato sottoposto al tampone del risultato positivo al coronavirus l'aslo dopo la conferma lo ha comunicato alla polizia municipale ed è stato posto in quarantena il pasticcere che era in convalescenza per un infortunio osservare al periodo di quarantena si è già sottoposto ad una terapia prescritta dai sanitari per combattere il virus le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni gli agenti della municipale di Battipaglia gli ordini del colonnello Gerardo Iuliano hanno avviato le procedure per ricostruire tutti i contatti che il pasticcere ha avuto negli ultimi giorni e poi Arianna bimba di legno per un errore dei medici ora vogliamo giustizia farmaco sbagliato quando la bambina di Cava di Tirrene aveva tre mesi paralisi cerebrale battaglia dei genitori contro l'ospedale Cardarelli lasciamo questa pagina ma proseguiamo sempre sul mattino il primo piano è dedicato alle spiagge l'estate la ripresa spiagge libere vigilanti per la sicurezza in arrivo squadra di controllori in supporto ai vigili il sindaco riprovazione sociale per chi non rispetta regole una delibera di giunta per stabilire costi e modalità all'inizio della prossima settimana sarà tutto pronto prima l'idea di piantare ombrelloni comunali sulle spiagge libere da affidare a gestori privati in grado di controllare e tracciare gli accessi poi cambiate le disposizioni del protocollo di sicurezza antidiffusione SARS-CoV-2 il dietrofront ieri dopo l'ennesima ordinanza regionale sull'argomento la giunta comunale approverà una nuova delibera al centro la decisione di affidare con una procedura comparativa parliamo del comune di Salerno il servizio di controllo degli arenelli pubblici ed associazioni di vigilanza che diano manforte alla polizia municipale con l'augurio ammonisce il sindaco Enzo Napoli che ognuno si faccia carico della propria salute e poi bus il ritorno alla normalità è rinviato stop dal ministero la capienza piena almeno altri sei giorni in attesa che dal governo centrale arrivino delle disposizioni precise sul distanziamento minimo a bordo dei bus senza indicazioni centrali si torna praticamente alle vecchie regole e cioè posti a sedere consentiti solo a file alterne riduzione anche dei posti in piedi insomma quella che da ieri doveva essere la rivoluzione dei trasporti pubblici su tutto il territorio regionale si è trasformata in un momentaneo nulla di fatto fino al 14 luglio continueranno a valere le norme usate per la fase 2 dei trasporti ora invece lasciamo momentaneamente il mattino e ci spostiamo sul quotidiano le cronache vicenda vicenda fonderie pisano sbloccato bando asi sindaco di bucino fa ricorso a consiglio di stato è già pronto a breve lo depositeremo chiamerò in piazza la popolazione andiamo a vedere nel dettaglio le fonderie pisano presto potrebbero trasferirsi a bucino nella giornata di ieri è stato sbloccato il bando asi e l'otto industriale numero 22 di proprietà del consorzio dove un tempo era allocata la metalli e derivati ed è stato aggiudicato proprio dai proprietari dello stabilimento di via dei greci a fratte l'aggiudicazione è avvenuta con l'apertura dell'unica offerta in busta chiusa pervenuta al consorzio per la zona industriale di Buccino dopo il bando emanato nel 2018 e successivamente sospeso a causa della decisione del sindaco Nicola Parisi di trasformare l'area industriale in area agroalimentare proprio per bloccare l'insediamento dell'opificio e proprio i pisano si sono poi rivolti al tardi insieme all'azienda Icep Industria Calce Casertana Magaldi Power Ceramica e Vietri Antico Bicom Specialtis Maco International ed altre tutte aziende non agroalimentari interessate ad un ipotatico insediamento conseguenza dell'annullamento della modifica di vari antalpuc oggi la nostra provincia vive una notizia che parla di futuro sviluppo futuro per il valore fortemente rivendicato e difeso in questi anni da tutte le maestranze delle fonderie pisano e dalle loro famiglie sviluppo per l'industria e il territorio anch'esso rivendicato e sostenuto dalla nostra organizzazione e ha dichiarato Francesca Delisa segretario generale provinciale della FIOM CGL oggi quelle lotte quelle rivendicazioni quei sacrifici fatti dai lavoratori hanno una novità sul terreno del confronto perché c'è finalmente un luogo su cui poggiare le nostre aspettative di tutela del lavoro ma il sindaco di Buccino Nicola Parisi non si arrende tra qualche giorno depositerà il ricorso al Consiglio di Stato e prospetta ancora una volta barricate pur di non avere l'opificio sul suo territorio non solo il ricorso è pronto e tra pochi giorni lo depositeremo al Consiglio di Stato ma chiamerò al mio fianco la popolazione ha detto infatti il primo cittadino lasciamo il quotidiano le cronache ritorniamo sul quotidiano il mattino per vedere la pagina dedicata allo sport e alla salernità nel Serie B andiamo a vedere è il tempo delle verifiche Granata agli ordini di Mister Ventura rimaneggiati Ventura che a caccia di conferme dopo il derby approccio soft ma ora intensità aumentata voglio un grande match Gondo convocato ma destinato a subrentrare tentazione Capezzi abbiamo bisogno di lui come il pane può giocare alle spalle di Diuric ma andiamo a vedere la formazione che ha in mente Mister Ventura per la trasferta di Ascoli e Mikai in porta a linea di difesa a tre Caro Migliorini di Arosischi a centrocampo in quattro Leali Cicerelli e Curcio in mezzo di Taccio affiancato da Akpa Akporo e Chin e poi Capezzi per l'appunto alle spalle di Diuric ma andiamo a vedere cosa ha detto Giambiero Ventura l'ex CT della Nazionale ieri mattina ha presentato la sfida contro l'Ascoli nella sala stampa del Meri Rosi subito dopo che aveva diretto la seduta di rifinitura stasera giochiamo contro l'Ascoli una squadra che a guardare la classifica lotta per la salvezza in una partita con altri obiettivi come anche la Cremonese l'Empoli e molti altri club subito dopo ci attendono cinque scontri diretti uno più difficile dell'altro quando una cosa è stimolante mi tuffe vorrei che i miei giocatori pensassero la stessa cosa ha detto Ventura e con la pagina dedicata allo sport si conclude questa edizione della nostra rassegna stampa io vi ringrazio per la consueta attenzione e vi auguro una buona giornata e vi auguro grazie per l' supposed